Siamo arrivati a Trieste con l'intervento del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella alla cinquantesima settimana sociale dei cattolici in Italia, dal titolo al cuore della democrazia a partecipare tra storie e futuro. La chiusura domenica prossima con la messa del Pape, l'Angelus, in piazza Unità d'Italia, oltre 900 delegati presenti. Fuori nostalgici antisemiti, Giorgia Meloni scrive ai dirigenti del partito e chiarisce che Fratelli d'Italia non è un movimento rivolto al passato, ma guarda al futuro e al bene dell'Italia. Allerta a maltempo, nelle prossime ore è prevista instabilità sulle regioni del centro-nord per prevenire i danni ambientali, dicono gli esperti, e dobbiamo innanzitutto correggere la nostra mentalità. Buongiorno dal TG2000, dunque apre oggi a Trieste la cinquantesima settimana sociale dei cattolici italiani. Ci colleghiamo allora subito con il nostro inviato Vito De Torre. Buongiorno Vito. Buongiorno da Trieste. Da oggi fino al 7 luglio Trieste si anima con la cinquantesima edizione delle settimane sociali dei cattolici italiani. Al cuore della democrazia, questo è il titolo di questa cinquantesima edizione, si parlerà soprattutto della partecipazione dei cattolici nella politica. Oltre 900 i delegati in rappresentanza delle diocesi italiane, dei movimenti, dell'associazionismo cattolico. Un terzo dei delegati è donna, un terzo è giovane. Quindi in qualche modo questa è una delle novità, ma tra le novità più importanti ci sono le piazze tematiche. Le piazze a tema saranno 16 piazze della democrazia, dove saranno incontri aperti a tutti, ai triestini, a chiunque volesse partecipare, dove si affronteranno i temi dalla giustizia, all'uguaglianza, alla pace, alla partecipazione democratica. Il 7 luglio, domenica prossima, chiuderà i lavori di questa cinquantesima edizione Papa Franceso con la messa celebrata qui a Trieste. Tutto per il momento, la linea può tornare allo studio. Grazie Vito De Torre, ora ci spostiamo in Medio Oriente, dove in un attacco stanotte con droni sarebbero morti quattro palestinesi. Secondo Israele si trattava di una cellula terroristica, a linea alla nostra corrispondente da Gerusalemme, Alessandra Abuzzetti. Buongiorno Alessandra. Buongiorno, sì, oltre a questo attacco continuano operazioni militari e bombardamenti anche in altre parti della striscia, comunque Gaza City, Hanyunis e anche Rafa, dove ieri sera il capo di Stato maggiore dell'esereto israeliano ha detto che la campagna sarà lunga e continuano anche le evacuazioni di mediadi palestinesi in aree sovraffollate, dove le condizioni alimentari e sanitarie sono sempre più precarie. Fonti di Amal sono anche fatto sapere che il leader è ben nascosto e deciso a restare dentro Gaza ad ogni costo e sappiamo che sono già quasi 40.000 le vittime di questi otto mesi di guerra. Dall'altro, Fonte Caldo, in Libano, gli esbolla, dicono che non ci sarà un escalation solo se a Gaza ci sarà un cessato il fuoco. Sappiamo che è una condizione che il premier Netanyahu non accetta, premier che ha le prese con proteste di piazza e continui dissidi anche con le sue forze armate, ma sale molto la tensione nei territori palestinesi. E questa notte a Tulcare un altro drone ha ucciso quattro miliziani mentre piazzavano ordigni sulla strada, come quello che ha ucciso un soldato israeliano, ma ci sono stati scontri anche tra la polizia e i coloni israeliani. Il tentativo di sgomberare un avamposto illegale di un gruppo di coloni che aveva fatto attacchi violentissimi a villaggi palestinesi circostanti. Da Gerusalemme la linea può tornare a voi. Grazie ad Alessandra Buzzetti. Ora ci spostiamo in Ucraina dove il giorno dopo la proposta di una tregua militare avanzata dal presidente di turno dell'Unione Europea e premier ungherese Orban, Mosca continua a bombardare le città intanto dagli Stati Uniti, sono in arrivo nuovi aiuti militari a Chire. Antonella Mazzatero. È stata ancora una notte di guerra nell'est Europa. Gli ucraini denunciano attacchi aerei russi su Dnipro, nel centro del paese, che hanno causato la morte di tre persone. E nuovi concentrati attacchi nella regione orientale di Donetsk, nel conteso Donbass, sulla ex città mineraria di Toretsk, che era sfuggita ai combattimenti dall'inizio dell'invasione. La difesa russa, invece, ha affermato di aver distrutto droni ucraini sulle regioni di Belgorod, di Bransk e di Mosca e verso Novorossi, il più grande porto russo sul Mar Nero, strategico per le esportazioni di petrolio, il cui accesso stamani è stato ridotto dalle autorità. Gli Stati Uniti, intanto, stanno per fornire ulteriori aiuti militari all'Ucraina, per oltre 2 miliardi di dollari in anticarro, intercettatori della difesa aerea, compresi i missili terra-aria Patriot. Lo ha assicurato il segretario alla difesa americana, Lloyd Austin, all'omologo ucraino, Rustin Merov, durante un incontro al Pentagono ieri. L'annuncio è arrivato nel giorno in cui Viktor Orban, all'avvio del semestre di presidenza del Consiglio dell'Unione Europea. A sorpresa si recava Kiev, stimolando il presidente ucraino Volodymyr Zelensky a un rapido cessate il fuoco per accelerare i colloqui di pace con Mosca, perché la guerra ha sostenuto il presidente ungherese a pesanti conseguenze sulla stessa Europa. In Francia nasce il fronte anti Le Pen, le desistenze sono 218 da parte dei candidati di Macron e Gauche. I ballottaggi restano in piedi e 81 triangolari e 2 quadrangolari, ma Le Pen punta comunque al governo con o senza una maggioranza assoluta. E occhi puntati sulla Francia, anche dalla politica italiana, mentre la premier Meloni dice ai suoi dirigenti in Fratella d'Italia non c'è spazio per posizioni razziste o antisemite o per i nostalgici dei totalitarismi del Novecento. Augusto Cantelmi. Una lettera necessaria per correggere anche l'errore iniziale. La premier Meloni è tornata sull'inchiesta giornalistica di Fanpage su Gioventù Nazionale. Lo fa con toni, questa volta decisamente più duri. Non c'è spazio, si legge, per posizioni razziste o antisemite, come non c'è spazio per i nostalgici. Abbiamo già fatto i conti con il ventennio, aggiunge Meloni. Chi non ha compreso il percorso non può farne parte e Fratelli d'Italia si schiera con la premier. Per Meloni le buone notizie invece arrivano dal PNRR. Con il via libera da parte della Commissione europea alla quinta rata da 11 miliardi salgono così a 113 miliardi incassati dei 194 previsti dal piano di ripresa e resilienza. Problemi invece per l'autonomia differenziata, evidente la spaccatura all'interno della maggioranza dopo le parole del Ministro della Protezione Civile Musumeci che ha bollato come precoce l'iniziativa del Presidente del Veneto Zaia di richiedere la competenza su 9 delle 23 materie previste. Le opposizioni invece sono sulle barricate pronte a raccogliere le firme per il referendum abrogativo insieme alle regioni governate dal centro-sinistra. L'Anfranco Principe nell'operazione coordinata della DDA di Roma che ha portato questa mattina 25 arresti. Nell'indagine si contesta a vario titolo anche il reato di associazione mafiosa finalizzata all'estorsione, traffico di sostanze stupefacenti e reati contro la pubblica amministrazione. Il gruppo criminale puntava inoltre ad acquisire in modo diretto e indiretto la gestione e comunque il controllo di attività economiche, di appalti e servizi pubblici intendeva ostacolare il libero esercizio del voto. Ed ora il maltempo che sta investendo l'Italia in questi giorni con alluvioni e frane, soprattutto in Val d'Aosta e Piemonte, che riporta in primo piano la questione dell'adattamento ai cambiamenti climatici di un territorio fragile. Come con l'italiano, Lucia Ascione. Ombrelli aperti almeno fino a domani quando a partire dalle ore pomeridiane è previsto un iniziale miglioramento delle condizioni meteo. Per le prossime 24 ore, intanto si conferma una grossa instabilità e non solo al nord. Lombardia meridionale, Veneto e zone pianeggianti dell'Emilia sono le aree a maggior rischio precipitazioni. Ma il maltempo si sta spostando in Toscana meridionale e appenninica, Umbria, Marche occidentali, Abruzzo e Molise, senza risparmiare Lazio, Campania, Basilicata tirrenica, Calabria e Sicilia orientale. Masse di aria provenienti dall'Atlantico, cariche di ingenti quantità di vapore e acqueo e quindi di umidità, transitando nell'area del nord e in parte del centro Italia, si scontrano con masse d'aria calda che stazionano da tempo sul nostro paese. Si generano così violenti temporali caratterizzati da piogge intense e spesso concentrate. Al nord è già tempo di stima dei danni causati da inondazioni e frane in Val d'Aosta, Piemonte e Veneto. Questo significa grandi quantità di acqua che dai versanti si scaricano verso valle e che trascinano con sé anche elevate quantità di detriti e fango che peraltro sono rese disponibili anche dal ritiro degli acciai dovuto al riscaldamento. E questo a sua volta accresce la capacità distruttiva delle inondazioni che ne conseguono. Ancora una volta, oltre ai cambiamenti del clima da affrontare, c'è tutta una mentalità da correggere prima che sia troppo tardi. Quello che occorre fare è ripensare il modo in cui viviamo il territorio e ci rapportiamo in questi fenomeni. Dobbiamo renderci meno vulnerabili e questo però prevede e necessita il fatto che diventiamo anche più coscienti e più consapevoli dei nostri territori e dei problemi che li caratterizzano. E al contempo ci rendono capaci di attuare comportamenti corretti che ci salvaguardano nell'occorrenza delle alluvioni e ci rendono anche più capaci di accettare decisioni politiche di gestione del territorio che altrimenti potremmo considerare inapplicabili o intollerabili. E un'altra importante ricerca condotta dall'Università di San Paolo del Brasile dall'Imperial College di Londra ha scoperto che i cibi ultraprocessati di origine vegetale possono aumentare il rischio di malattie cardiovascolari. Monica Di Loreto. Da tempo si sa che un consumo costante di alimenti processati di origine animale siano dannosi per la nostra salute, ma ora uno studio evidenzia come anche i cibi vegetali processati non siano meno pericolosi. Dunque se siete amanti dei burger vegetali oppure mangiate spesso yogurt alla frutta o barrette di frutta, prestate attenzione. La ricerca è stata pubblicata su The Lancet Regional Health Europe che mostra una correlazione tra questi alimenti trasformati e malattie cardiovascolari come infarto e ictus. Lo studio ha coinvolto oltre 118.000 persone di età compresa tra i 40 e i 69 anni che hanno risposto a domande sulla loro dieta. Le informazioni sono state poi collegate ai registri ospedalieri di mortalità per lo sviluppo di fattori di rischio cardiovascolare ed ha rilevato che i cibi ultraprocessati a base vegetale aumentano del 5% il rischio di malattie cardiovascolari e del 13% il rischio di morte prematura. Ma perché sono potenzialmente dannosi? Perché contengono un elevato quantitativo di zuccheri, sale e acidi grassi trans. Inoltre molto spesso per aumentare la palatabilità e la conservabilità aggiungono additivi e conservanti. Inoltre sono anche molto più calorici rispetto al prodotto fresco e una volta che vengono trasformati parzialmente o quasi totalmente vanno a perdere tutti gli alimenti essenziali come le vitamine, i minerali e la fibra. All'interno di questa categoria di alimenti ritroviamo anche quelli vegetali come per esempio snack salati, dolci confezionati, zuppe o minestre pronte al consumo o ancora burger vegetali, affettati vegani o yogurt da bere addizionati di zuccheri o yogurt alla frutta. In Vaticano, ora dove da oggi sono sospese le udienze generali per consentire a Papa Francesco un po' di riposo durante i mesi estivi. Cristiana Caricato. Piazza San Pietro è imbronciata per l'inizio di un luglio variabile, molti turisti ma non il consueto flusso di pellegrini che il mercoledì intassano Borgopio. Il motivo è semplice, Papa Francesco è in vacanza, è ufficialmente iniziato il mese di riposo che il pontefice osserva durante l'anno. Ferie decisamente sui generis. Durante il pontificato Bergoglio ci ha abituato alla sobrietà di spostamenti e luoghi che contraddistinguono la sua pausa estiva. Niente Castel Gandolfo, residenza estiva dei Papi, da tempo trasformata proprio per volere di Francesco in un museo, ma neanche altre località che negli ultimi decenni erano state elette a eremi estivi per i pontifici. Il Papa rimarrà a Domus Sancte Marte, immerso nel lavoro anche se a ritmi ridotti nelle letture e nella meditazione. È il suo modo di ricaricarsi, vivere in tranquillità tra mura familiari, il periodo per riprendere energie e forze. Le udienze generali riprenderanno mercoledì 7 agosto, mentre dall'agenda sono eliminati tutti gli appuntamenti pubblici. Unica eccezione è la visita domenica 7 luglio a Trieste per concludere la settimana sociale dei cattolici italiani. E per seguire tutti i lavori della settimana sociale, edizione speciale di Siamo Noi, oggi pomeriggio dalle 15 alle 18 circa, che seguirà in diretta l'intervento del Presidente della Repubblica, Mattarella. Con Marino Galdiero andiamo a conoscere i tre personaggi dell'ultimo libro di Stefano Dalbianco. Sono tre i personaggi dell'ultimo libro di Poesie di Stefano Dalbianco. Insieme all'io lirico del poeta c'è il suo cane Tito e la natura, il paesaggio delle colline senesi. Titolo del volume è Paradiso. Scrive, camminiamo nel silenzio e Tito ha il naso rasoterra. Tutto il tempo perché tutto profuma di qualcosa. Io ho il naso per aria perché il profumo è altrove, perché niente mi basta sulla terra. Il rapporto tra i tre è intenso e al tempo stesso semplice, con versi discorsivi ed una colloquialità che avvicina il lettore. Paradiso è candidato al premio Strega Poesia. Quando c'è stato il lockdown nel 2020-2021 ovviamente qui eravamo dei privilegiati perché in quel periodo la natura era veramente stravolgente. In che modo ha lavorato? L'esperimento è stato uscire tutti i giorni con il registratore del cellulare in mano e dettare quello che vedevo. Come nasce il titolo Paradiso? Il titolo vuole sottolineare un po' anche una condizione mentale che ovviamente non è stabile, non può essere stabile, ma è come dire che comunque è qualcosa di attingibile qui e ora, non è qualche cosa da dire, aspettiamo la prossima vita. I miei libri precedenti parlano sempre di un attraversamento del dolore, della negatività per arrivare a qualche cosa di molto meno negativo, per superarlo questo dolore. Lo sport con Wimbledon dove inizia il secondo turno con una sfida tutta italiana tra gli azzurri Yannick Sinere e Matteo Berrettini, i due scenderanno in campo sul centrale oggi non prima delle 17.45 ed è tutto per ora, vi lascio a terza pagina curata da Saverio. Simonelli, grazie per averci seguito più tardi. Gli appassionati di romanzi gialli la conoscono bene, Vanina Guarrasi, il vice questore di Catania, con un passato a Palermo, dove il padre è stato brutalmente ucciso dalla mafia e dove anche lei si occupava di Cosa Nostra. Torna ora in scena in Il Castagno dei Cento Cavalli, edito dai Naudi, insieme alla sua autrice Cristina Castascalia. Vanina questa volta deve affrontare un duplice omicidio, una serie dove spesso sono protagoniste le donne. Sono molte donne nella mia serie, ho creato questo personaggio principale, donna, come piaceva a me, perché l'ho creata quando è nata la serie nella mia mente, io ho creato questa poliziotta, un po' immagine e somiglianza della poliziotta che mi sarebbe trovato, mi aveva fatto piacere trovare nei libri da lettrice di gialli, quale sono sempre stata. Cristina Castascalia racconta anche la Sicilia. Cerco di raccontare una Sicilia quanto più realistica possibile. È una Sicilia, la Sicilia di Vanina è una Sicilia metropolitana, perché comunque si svolge, sebbene siano due Sicilie, la Sicilia, io lo dico sempre, non è una, in realtà è un'isola formata da tante Sicilie. Che rapporto ha con il cibo Vanina? Vanina mangia quello che vorrei mangiare io, poi in realtà, lo faccio mangiare a lei che così è meglio. E quali piatti preferisce? Quello che mangia più di frequente, in realtà, è quella che a Catania si chiama la raviola di ricotta, che non è il raviolo, è la raviola, è una sorta di cornetto fritto con dentro la ricotta. Poi ci sono magari invece le pietanze salate, cioè quello lei, ecco, forse se dovessi mettere al primo posto Vanina mangia molto molto spesso parmigiano e caponata. Questa grafia minuta ed elegantissima, questo tratto fragile come il suo estensore, appartengono a Franz Kafka, il grande scrittore preghese di cui quest'anno ricordiamo i cento anni della morte ed è una lettera che verrà battuta a Londra da Sotheby's per una cifra che dovrebbe avvicinarsi alle centomila sterline. Ne parla, non senza una punta di commozione, Gabriel Heaton, responsabile per libri e manoscritti della celebre casa d'aste britannica. Nella lettera che risale alla tarda primavera del 1920, Kafka, rivolgendosi all'amico Albert Ehrenstein, lamenta le precarie condizioni di salute, la tubercolosi gli era stata da poco diagnosticata, ma soprattutto la difficoltà di procedere nella scrittura, che, lo sappiamo bene, per lui in ogni momento della vita è sempre stata un'esperienza decisiva di totale immedesimazione tra mente e corpo e che ora pare spezzarsi, per cui pare che anche la grafia continua a esprimere questa angoscia che preludi al nulla. Nel frattempo, venendo ai giorni nostri, Eric Emanuel Schmidt continua la sua Traversata dei tempi, una serie di romanzi che ripercorrono la storia dell'umanità in modo molto personale ed originale, e dopo Paradisi perduti arriva in libreria la Porta del Cielo, con la Torre di Babele in copertina.